circolo dei lettori buonasera grazie perché senza applauso sembra la commissione dell'esame di maturità e c'è troppo legno e siamo tutti troppo adulti per la maturità quindi diventava l'esame di danza di flash dance che è altrettanto problematico avete mai visto ballare stefano turconi ci sarà ci sarà un motivo se non l'abbiamo visto e l'hai sposato lo stesso e l'avevo sposato prima non gli hai fatto la prova danza prima non lo sapevo però poi dopo l'ho visto guardare signore e signori questa sera siamo qui con caterina marietti la mia socia teresa radice flavia biondi e stefano turconi e siamo qui perché perché ci hanno invitati essenzialmente chi portiamo portiamone tre tranquilli in qualche modo no perché è un anno in cui tutti e tre avete pubblicato dei libri nuovi e per coincidenza per due di voi si tratta dello stesso libro una coincidenza in realtà io non credo kate descrivi le opere allora no esatto stavamo quando abbiamo iniziato a pensare a questa serata effettivamente ci è venuto cioè ripensandoci ci ci ho visto molti punti in comune sul soprattutto sulle tematiche più ampie dei due libri perché comunque si parla di ritorni di ritorni a casa per sia per i personaggi di flavia sia per uno dei personaggi di flavia che per i personaggi di teresa e stefano si parla di anche un po di ricordi di ci sono due modi diversi di approcciarsi perché c'è chi sta ritornando e chi poi in realtà ritorna per poi ripartire subito quindi però ci ho visto dei punti in comune proprio nel nel tipo di di affrontare queste storie che effettivamente fanno molto bene al cuore ma voi lo sapete cioè chi qua ha letto le le vostre storie sa che hanno dei punti in comune da questo punto di vista e magari iniziamo proprio con con una cosa un po più banale di sapere come sono nati le idee di che porta hanno portato a effettivamente quello che ha alla casa delle magnolie come come ti è venuta l'idea flavia allora ciao a tutti innanzitutto la casa delle magnolie nasce un po contemporaneamente da due personaggi che poi sono le due protagoniste ad e amelia che avevo in testa da molti anni a volte nasco mi a volte penso ai personaggi ancora prima che abbiano un racconto e loro sono un po un esempio però una storia cominciata a immaginarla per loro quando fondamentalmente ho cominciato un po rendermi conto io sono un po innamorata delle grandi dei casali di campagna e che vedo spessissimo io sono toscana di origine dalle nostre parti ci sono tantissimi casali disabitati e mi hanno sempre lasciato una grande sensazione di fascino immaginarmi magari storie di famiglia che per centinaia di anni si sono alternate al loro interno e non lo so ho cominciato a fantasticare un po sull'idea di ripopolarne uno e quindi ecco la storia nasce un po da questo la mia scusa tu non guardi quegli orribili programmi immobiliari vero anche quelli tantissimo però non l'ho ristrutturata la casa nella storia tra l'altro mi fa ridere perché lascio andare avanti con le domande Kate ma è tendenzialmente si pensa più esotica l'ambientazione del contastorie per un lettore europeo però in realtà tu hai scoperto che un sacco di gente non sa dove sta montalcino è vero io sai sono toscana me la prendo un po a male se non si sa ti risponde c'è il vino bono esatto c'è il nostro brunello di montalcino viene da montalcino è questo ma chi l'avrebbe mai detto però è veramente scoperto che c'è gente che ti ha chiesto ma dov'è quindi questo posto sì sì esatto esatto allora io sono della provincia di Firenze e sai noi con un po di astio per quella di Siena montalcino nella provincia di Siena ma pensavo fosse mediamente famoso credo che lo sappiano più gli americani degli italiani a questo punto penso di sì invece Teresa la vostra storia nasce come ispirazione iniziale da un tuo viaggio non un vostro viaggio sì in realtà tra l'altro ha un'altra consonanza con Flavio perché anche la mia storia sta lì da un sacco di tempo e credo sia la prima storia che ho scritto poi è rimasta lì per me aveva un'importanza fortissima ma non era mai il momento come dire di tirarla fuori è arrivato parecchio tempo dopo per cui il viaggio sì era un viaggio che avevo fatto io perché in realtà quando questa storia nasce noi due non ci conoscevamo ancora quindi non l'avevo visto ballare quindi non potevo ancora metterlo nel libro però sì era un viaggio che ho fatto da ragazza quindi è un po il viaggio che fa pedro e quello che ho fatto io rimaneggiato però mi sembrava più che altro che fosse l'ambiente giusto per raccontare questo tipo di storia poi l'amazzonia un po' un pretesto diciamo funzionava con Stefano perché oltre ad essere bravissimo a ballare gli piace disegnare gli animali e quindi ho pensato che l'amazzonia fosse perfetta per tu sai che c'è un mio animale preferito in quel libro però mi viene un dubbio cioè quindi tu che non è piccioni no 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 voi non non è il capibara no il piccione per me di Stefano rimane forse la cosa più bella che abbia mai visto in vita mia però io dei gadget è il bradipo ok quello che quando quando lo descrivi dicendo è così pigro che scende dagli alberi una volta a settimana per fare la cacca e basta è vero è così però quindi per te è stato un ulteriore viaggio doverti calare non stavolta in un immaginario che avevate vissuto insieme come è successo per altri libri ma in qualche modo sono certo che la tua curiosità è famelica e quindi lei ha detto Brasile tu benissimo ma come è stato calarti metterti al servizio di questa cosa che partiva non stavolta da un'esperienza comune ed effetti è stato strano perché di solito partono sempre da viaggi che facciamo insieme questa era la prima volta che disegno effettivamente un posto dove non sono stato ma in realtà ho usato esperienze fatte simili nel senso che non sono mai stato in amazzonia ma sono stato nel giungle del guatemala tra messico e guatemala e ho immaginato che più o meno giungle da quella parte del mondo fossero più o meno tutte uguali quindi ecco ho attinto un po' da quell'esperienza ora un attentatore guatemalteco dall'ultima fila viene avanti e sono come fuote con un'arma precolombiana esatto quindi un po' pescato da quello e un po' mi sono documentato che comunque è la parte del lavoro che mi piace moltissimo sotto cercare immagini fotografie tra l'altro ho usato un sacco di sue foto foto che aveva fatto durante questo viaggio e alcune sono proprio rifatte pari pari in alcune vignette c'è tipo cito sempre quella della scuola perché è esattamente uguale era una scuola che aveva fotografato in mezzo alla foresta l'ho ridisegnato uguale e poi avevo trovato dei libri noi siamo di quelli che quando vanno ai mercatini o le cose sono libri vecchi impazzisco trovo sempre cose che apparentemente inutili secondo me tu compri anche roba che è rimasta là una vita perché nessun altro ha il tuo punto di vista su quel materiale io compro delle cose che dice ma non so in questo caso era un libro sulla sull'amazzonia un viaggio in amazzonia fatto da già costo negli anni sessanta con fotografie e diceva cosa non servirà mai nella vita è rimasto lì per anni tac eccolo è tornato tiri sul prezzo quando ai mercatini trovi cose che ti servono cioè riesci a fingere che non immaginiamo invece te che tirchissimo porti a casa due euro venti chili di roba poi fai amore sto arrivando ho risolto la documentazione ma quella sono io quella è lei che che tratta no lui spende io spendo ok sono con le mani bucate aiuto ho creato un ci si è creato no ma io a me andrà benissimo parlare di mercatini e la stagione è quella no però secondo me un'altra cosa molto interessante era che non stavamo proprio parlando di casa e di proprio del un po di quella di quella cosa tipidina in cui si sta bene e che secondo me è un è un qualcosa che effettivamente si sente da è una cosa bella delle belle storie e volevo un po capire anche da parte vostra cos'è che vi fa sentire a casa cos'è che vi vi fa sentire effettivamente a vostro agio nel come un po come nelle vostre storie ma la carta stavo per dire stefano dirà il rumore della mina sulla carta a qualunque domanda risponderà il rumore della mina sulla carta una bella scrivania con tanta carta da riempire matite di vario io scrivo matita perché mi piace perché collezioni sederini delle matite lo faccio da quando ho iniziato a fare questo lavoro e quindi sono alla quarta bottiglia perché effettivamente tu fai una roba molto bella quando voi andate a casa di teresa e stefano teresa lei prima di quando la prima stesura del libro è fatta tutta su un quaderno quindi su carta scritta matita in cui tu ti scrivi tutte ti scrivi la storia effettivamente la storia come serve a me nella mia testa diciamo perché poi nessuno vedrà cioè loro vedono ma non serve materialmente a qualcun altro per essere capito insomma e quindi mi scrivo tutta la storia così facendo diventare ciccioni questi quadernetti perché ci attacco le cose attacco delle immagini che magari mi ispirano in quel momento delle citazioni e torno indietro cancello bisogno della carta perché altrimenti il computer mi inibisce questa cosa bianca e i tasti e faccio la stessa cosa anche con la sceneggiatura in realtà per cui quando io ho tutta questa storia scritta nei quadernetti cicciotti io la trasformo in sceneggiatura ma sempre a mano e sempre su foglietti che di solito sono volanti o su altri quadernetti eccetera dopodiché faccio questa cosa di nuovo ma uso il computer quella brutta cosa lì ti serve questa cosa cioè muta la storia dal dalla prima stesura sul primo quadernetto al secondo a quando effettivamente la batti poi a computer per stefano allora in realtà mi serve nei passaggi tra una cosa e l'altra perché io ho questa memoria mi ricordo la pagina dove ho scritto le cose quindi molto spesso quando sono in giro e cammino mi vengono in mente delle parti dove ho dimenticato una cosa dove potrei aggiungere altra mentre se dovessi pensare alla scrittura su computer mi sembrerebbe tutto uguale cioè non riuscirei a identificare dove manca qualcosa e dove no però è una cosa mia mi rendo conto che è patologica per cui vabbè però mi sembra secondo me interessante anche per chi scrive proprio cioè il fatto di avere tre stesure di avere anche i tre passaggi secondo me non lo so mi sembra un ordine mentale abbastanza chiaro comunque sì ma che è un po folle però io non riesco a lavorare dire solamente poi giuro che faccio una stesura fatta bene col computer perché sennò lui non legge la mia scrittura la mando al sequi signor turconi al piano di sotto con no a volte porto giù la chiave questo mi fa abbastanza sorridere perché moltissimi autori con cui lavoriamo soprattutto perché lavorano soprattutto quelli che lavorano soli come fa flavia ma anche quelli che lavorano in tandem non fanno una sceneggiatura diciamo con una forma che sarebbe interpretabile da una terza persona e invece voi che vivete insieme avete praticamente un ufficio cioè proprio anzi più uffici e vi mandate le cose da una parte all'altra io scrivo proprio la sceneggiatura come mi hanno insegnato c'è due punti nome due punti sottolineo anche faccio in grassetto i dialoghi cioè è tremendo lo so però poverino c'è bisogno di questo va bene così a me fa ridere perché invece ogni tanto io scrivo a terry moore l'autore americano e scrivo lui per le cose artistiche e alla moglie per le cose burocratiche e ogni volta dico all'uno di salutarmi l'altro poi siamo andati a casa loro abbiamo scoperto che hanno un solo computer e che l'altro lavora accanto al computer per cui in realtà potrei anche dire una cosa del tipo ciao terry lo so che stai leggendo dietro la spalla di tua moglie per cui loro sono molto più informali ma hanno lo stesso processo che avete voi e tu flavia cosa ti fa stare bene allora stavo pensando appunto al cosa mi fa sentire a casa in particolare che io abito a bologna da una quindicina d'anni ho cambiato diversi appartamenti e io sono una persona predestinata essere un'anziana che guarda fuori dalle finestre perché io penso di sentirmi veramente a mio agio in un luogo quando comincio ad avere in testa un po la routine dei miei vicini nel senso di dire non tipo stalker però io sono una fumatrice quindi una fumatrice che fuma sul balcone perché non fumo in casa e quindi mi capita spessissimo di vedere un po la vita sulla strada sotto a casa mia e quando comincio a sapere a che ora passa quello chi saluta l'altro ecco per me diventano un po i suoni dell'ambiente che appunto chiamo casa e è una cosa che banalmente mi dà un sacco di ispirazione io scrivo spesso al tavolino dell'Ikea incastrato nel balconcino con addosso il cappotto anche d'inverno perché non lo so la sigaretta è finita da un pezzo potresti stare al caldo ma no mi piace perché mi fa sentire parte di un piccolo paese che si muove anche se è una stradina banalmente nella casa delle magnole c'è un personaggio che è un anziano e visivamente è un mio vicino di casa avrei voluto disegnare anche il suo cane perché è un anziano che ha uno scottish terrier che l'ha chiamato scotti ed è fantastico era scotti o terri per cui esattamente quello prima era terri e tra l'altro è così vera che la cosa che ha detto flavia che l'unica cosa che esiste veramente fisicamente della casa della casa delle magnolie è la cancellata ed è visibile dal suo balcone esatto si vado poco lontano a volte a montalcino non ci arrivo sempre no anche perché la casa comunque non esiste per cui Stefano ora puoi dire la mina sulla carta no però non ci andiamo lontani cioè le tutte le mie cose il mio studio con le matite pennelli pennarelli pennini tutte queste cose qua e i miei libri intorno e il caos deve essere in disordine però è un disordine molto metodico cioè non è quell'aria però è tutto un pile di cose dove non so cosa c'è sotto noi abbiamo visto una ricostruzione dello studio di Francis Bacon e io l'ho guardato e ho pensato alla mia scrivania hai pensato sì ma anche come trovava la porta cioè come usciva da quel posto il tuo studio non ha quel fino a quel punto no in effetti però mi piace il l'ambiente che mi creo intorno quando quando disegno quando lavoro quindi se traslocaste sarebbe il primo posto che tu risistemeresti per riprodurre le condizioni ideali sì lo studio sì per forza assolutamente posso fare una domanda io come si crea un personaggio memorabile cioè come si crea un personaggio di quelli prima stavamo cenando e Stefano ha detto Flavia ho centellinato il tuo libro negli ultimi giorni i personaggi mi sono così entrati dentro che la sera che l'avevo finito il giorno dopo ho detto peccato che non posso avere ancora che fare con loro come si ottiene ditelo pure col senno di poi perché è chiaro che delle cose succedono sono in fieri quando state lavorando a una storia magari un personaggio su cui avete scommesso resta un po' più freddino un altro che vi sembrava un comprimario ruba la scena ma come si crea un personaggio che entra nel cuore dei lettori e voi tre ne avete parecchi alcuni interamente merito di Stefano per il comparto visivo che te li fa amare a prima vista alcuni per la complessità delle loro back story che è la specialità di Teresa e alcuni semplicemente perché ti sembra di conoscerli da sempre come succede con molti dei tuoi Flavia allora io non ho personalmente un metodo al massimo una psicosi nel senso che io mi faccio molti film sempre al sul balcone sempre mentre fumo la sigaretta io non lo so mi assento spesso e volentieri quando sto lavorando su una storia mi capita di ma non lo so fantasticare su cose casuali tipo come è stato il primo giorno di scuola di un mio personaggio chi è sua madre anche se la madre non appare nella storia come si siede come si muove se ha o non ha un tic nella voce anche se nei fumetti non si sente la voce e soprattutto spesso anche come parla in che modo si esprime e se riesce a esprimersi e niente non lo so non ho una formula diciamo che per me un po scolpire personaggi è un'azione naturale infatti finisce sempre che ho difficoltà a raccontare personaggi che sono lontani da me dal modo in cui vivo la vita non a caso nelle maldicenze lo prendevo in giro in questi giorni ho fatto il mio unico personaggio ricco e benestante ed è un critico cinematografico quindi non so che cosa vuol dire fare il critico cinematografico se no non sarebbe stato ricco e benestante comprendo perfettamente ma le fai davvero le voci no le voci ad alta voce no però le senti nella testa solamente un pochino sì questo per noi è più normale ok va bene teresa io penso che voglio cioè io li voglio bene i miei personaggi e li sento anch'io io sento un sacco di voci anch'io cioè io sempre me l'immagino sempre cioè io la mattina porto amiche a scuola e poi mi faccio il giro io lo chiamo il giro dell'isolato vedi Flavia sta al balcone io faccio il giro dell'isolato vedo sempre gli stessi signori con il cane non state dipingendo la carriera del fumettista come un mestiere molto glamour devo dire però no no non è per niente glamour anzi vado nel fango in mezzo al bosco così c'è questa c'è il mio amico signora Irone che vedo tutte le mattine adesso in questo tragitto io sto sempre le storie in testa e quindi rimugino su quei buchi delle pagine che dicevamo prima gli voglio bene nel senso che diventano come delle persone vere che stanno con me tutto il giorno e quindi anche io mi immagino le voci so delle cose che succederanno alla fine del libro che non saprà mai nessuno tipo che due si metteranno insieme che faranno figlio che ne so che non saprà mai nessuno ma io lo so e poi racconto cioè delle emozioni che ho provato io sempre cioè parto sempre dalle emozioni che ho provato io poi le nascondo tantissimo però quando mi chiedono questa storia autobiografica in realtà tutte le storie sono autobiografiche per quanto riguarda me alcune magari di più in alcuni personaggi alcune tutte sparse in pezzettini però chiaramente sono tutte così trasformate per l'epoca storica perché magari il personaggio che sono io è totalmente diverso da me non lo so e per cui è difficile beccarlo però voglio bene a quelli di cui sto raccontando forse poi dopo questa cosa passa anche dal punto di vista del disegno è un po così cioè ai personaggi li devi voler bene ma io mi ricordo questa cosa già ai tempi di Disney di Topolino c'era un mio collega di cui non farò il nome ovviamente ma io lo indovinerò e non lo dirò e che tendeva a banalizzare diceva quando gli chiedevano della complessità dei personaggi ma sono pupazzetti e invece no non sono pupazzetti sono comunque devi pensare che sono delle persone perché come se li conoscessi se li incontrassi per strada se ci avessi a che fare e allora così li consideri a un gradino più alto non sono delle figurine disegnate ma sono delle persone che potresti incontrare e quindi probabilmente ci ragioni maggiormente sulla loro psicologia su come pensano quello che fanno come parlano il tono di voce e allora penso che poi questa cosa si percepisca nel libro poi finito adesso vi interrogo tutti e quattro Cate dimmi i tuoi personaggi preferiti di Teresa Stefano e di Flavio no dai allora io ho un debole per la giusta mezzura tu lo sai per me Emanuele mi è rimasto nel cuore io e invece su di loro lo sai cioè con Teresa forse ne abbiamo già parlato io non sono molto indecisa sul quale piccione era il piccione era in Orlando era in Tosca perché Lucilla mandava il messaggio col piccione io sono sempre molto indecisa quando qualcuno mi chiede qual è in realtà il vostro libro preferito che da cui poi derivano i miei personaggi preferiti e oscillo sempre tra il porto proibito e la terra del cielo e corvi quindi non lo so sono molto indecisa proprio perché non saprei dire quale dei cioè vado a momenti e non so mai qual è il mio libro del cuore quindi i miei personaggi del cuore è vero perché guardate che delle volte con voi succede molto per esempio io ho un assoluto distacco tra libro preferito e personaggi preferiti cioè personaggi preferiti non sono i miei libri preferiti davvero perché sì siete dei grandi caratterizzatori di infatti mi viene a dire poi torniamo a questa cosa perché lo voglio sapere di voi degli altri ma invece ci sono usciti dei personaggi che a conti fatti vi sono stati sulle scatole magari era voluto però che proprio dite quello quello non sarebbe amico mio cioè gli ho voluto bene per fare il libro ma cattivi ne avete fatti perché i cattivi però erano pensati per essere cattivi quindi non Fusks sì sì Fusks forse è il mio personaggio preferito ah il personaggio preferito scusate poi basta e ci stavo ragionando no sto pensando questi qua che mi stanno pensiamoci intanto dimmi il tuo personaggio preferito di Flavia allora in realtà adesso ti direi Amelia però c'è il signor Ferri che è ormai anche se il primissimo di cui mi sono innamorata era il ragazzo della generazione Matteo esatto perché è passato un po' da quando lì però ecco però anche io con i nomi non me li ricordo ma io ho nel cuore più di qualsiasi cosa non è una protagonista ma la mamma della protagonista di come si chiama la madre? è il mio stesso personaggio preferito è fantastico poi cioè io Teresa è tutta carina con questa parlata super gentile quindi non riesco a immaginarti a scriverla ma poi anche come l'hai gestita tu a livello di movimenti il taglio di capelli il modo in cui è vestita il modo in cui si appoggia alle cose cioè per me è tridimensionale perfino come guida è vero è vero c'è una scena lunghissima dove guida sono sicurissima su quello non ci piove grande amore oltretutto dice perché lui non ama disegnare le macchine per cui gli vengono da dio ma non mi piace disegnare le macchine è una cosa che è in comune con te perché tu no io non so usare assolutamente nulla di quello che è tecnologico pche mi ho imparato a scaricare i modelli 3d delle auto perché non li voglio disegnare mai ma poi me lo insegni questo sì sì è facilissimo se lo faccio io ti scambiamo le macchine ma maite è il frutto di vent'anni di topolino dove non fumano non dicono le parolacce non possono fare niente di fuori abbiamo la libertà no fanno fumare dire parolacce proprio stronza che poi mi fa un po' ridere c'è una cosa che mi ha fatto notare Anna tra l'altro che lei e sua sorella potrebbero sembrare a me le da vecchie come è mood stereo al momento fandom la cosa bella è che ce li leggiamo davvero non è che nascono per caso voi avete anche un'altra cosa in comune siete alcuni degli autori che gradiscono essere seguiti ma non hanno bisogno di un editing stretto in qualche modo come vi autodisciplinate cioè è un lavoro molto solitario è così solitario che anche quando due vivono insieme si mettono su piani differenti per incontrarsi solo a cose fatte o per fare altro come vi disciplinate per riuscire a portare a casa il risultato? adesso ti dico un segreto io ho fatto il liceo linguistico dalle sore sacramentine di Bergamo e no sembra che non c'entra niente sacramentine vuol dire che tiravano bestemmie? no 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 si chiamavano così era una razza ordine una razza è una razza di suora autoctona del Bresciano un tipo di suore così che si chiamavano così ok e allora la chiamavamo Alcatraz poi magari c'è una scuola no servono questi particolari perché eravamo c'era una sola prima una sola seconda terza quarta quinta eravamo 35 ragazze in classe con il grembiule alle superiori cioè per dirti come era i grembiuli siccome non c'erano per le ragazze di quell'età che cominciano come dire a crescere così allora prendevano i grembiuli che si utilizzano per fare i mestieri no? cioè perché non c'erano grembiuli quindi eravate vestite da domestiche esatto e questi grembiuli avevano tanti c'entra tutto c'erano tanti bottoni tipo 15 e se passava la preside che era la super suora sacramentina di Bergamo ti vedeva con un bottone slacciato ti dava la multa 200 lire per bottone slacciato no per dire che era una scuola che richiedeva una disciplina tremenda ora io sono stati 5 anni non so neanche trovare dei aggetti per descrivere un trascorso di vita scolastica è veramente traumatico Stefano me lo ricordo sempre ancora io vado a letto e sogno che non sono pronta per l'interrogazione però c'è gli incubi adesso della scuola il contro di questo è che mi hanno non so neanche dirti come mi hanno insegnato un metodo per arrivare a ottenere quella cosa lì tatan 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 meticoloso tu sai che hai appena detto è merito delle suore vero? sì quelle lì sacramentine di varie non so se le altre però le mie quelle lì del grembiule cioè io lavoro ancora adesso lo diceva mia figlia altro giorno che invece non c'era tanta voglia di e ho detto guarda che in realtà io lavoro ancora adesso e faccio i libri e cose con il metodo che ho imparato al liceo linguistico non ti so spiegare quale sia questo metodo ma è quel modo lì che ti metti lì il foglio e gli appuntini e fai non so delle mappe mentali delle cose scrivi o te alla fine la storia la porto a casa poi ti multi metti ancora le monetine in un vasetto ti multo ti multo sei tenuto le lire apposta ok e comunque viene da lì cioè viene dal liceo vedi mi pensavo a una domanda di prammatica e invece vengono fuori questi dark side ok allora no io riesco a essere molto disciplinata nella mia parte di disegnatrice nel senso che io mi do cioè per me è matematica conto quanti giorni mi mancano prima della consegna divido tutte le cose che devo fare e so esattamente quanto devo fare ogni giorno e non faccio né di più né di meno faccio esattamente quello che devo fare che ci metto 18 ore che ce ne metto 6 è uguale ma lo faccio sulla scrittura invece non non riesco a renderla disciplinata infatti ti lo dico sempre che non so se la scrittura è il mio mestiere è una cosa che faccio veramente con un amore incredibile ma non riesco a farla non ti dico ho l'ispirazione ma se non è non è il mio orario non è il momento non c'è il signore che pascola scotti fuori dalla finestra e infatti è la cosa che mi mette in difficoltà quindi spesso mi prende dei tempi molto più ampi di quando dovrebbe fortunatamente riesco a mettere le pezze poi con l'alter ego Flavia disegnatrice che corre a ripari e tu lo sai benissimo che io consegno le cose a livello di storyboard dei testi molto in là però una consegna non l'ho sforata cioè a parte questa da 5 anni ma però ti immagino adesso dire sta stronza della sceneggiatrice che ci ha messo più tempo maledizione mentre disegni sì sì ci sgridiamo ma ci abbiamo sempre per la serie sentire le voci io vengo anch'io dall'organizzazione di vecchio stampo nel senso che ho imparato in Disney a lavorare così cioè le consegne erano precise quindi dovevi rispettarle e poi a me mi aiutava moltissimo il fatto che in Disney io facevo solo le matite poi le inchiostravo una mia amica che si chiama Roberta che invece è un militare e allora lei mi faceva cioè tipo la consegna è il 12 aprile allora mi devi consegnare tutte le matite il giorno tot e se non gliele consegnavo rompeva le scatole tutti i giorni finché non gliele portavo quindi un po' questa cosa un po' mi sono abituato a rispettare le consegne e poi faccio come lei faccio il calcolo di quante pagine devo fare mi faccio i conti di quante ne faccio al giorno di quante ne faccio alla settimana faccio un calcolo approssimativo di ok questo libro probabilmente lo finirò in ottobre ci aggiungo due mesi un mese e mezzo minimo perché so che poi succede sempre qualcosa e quindi bene o male più o meno riesco a tenere le date questa cosa mentre Kate prepara la prossima domanda è il terrore della nostra redazione perché sanno che tu sei preciso e siccome spesso i vostri libri escono in concomitanza di un evento specifico non so il Sarone di Torino o Luca o cose del genere arrivare giusti prima loro sanno che hanno pochissimo tempo in realtà per finire le lavorazioni sanno da un lato è proprio il rasoio di Occam perché da una parte sanno che tu non sgarrerai ma neanche ne anticipo e quindi dicono quindi quello è il momento dobbiamo essere ti giuro che si preparano a te non hanno mai smoccolato per te perché ci sono invece persone che arrivano oltre il tempo massimo però sono seriamente un misto tra il box della Ferrari al Gran Premio e gli staffettisti pronti ad aspettare il testimone vedi io lo faccio per loro così stanno in allenamento sono pronti guarda sono certo che interiormente te ne sono grati ma da fuori sudano tantissimo per questa cosa infatti fanno negoziati del tipo abbiamo sentito Stefano nello stesso tempo siamo riusciti a infilarci anche il disegno dei risguardi forse ce la facciamo poi ce l'abbiamo sempre fatta però li fai sanamente sudare con la tua disciplina quindi le suore le redazioni Disney sono la stessa cosa agli effetti della carriera freelance anche questo mi sembra un argomento su cui meditare tra l'altro in realtà adesso parlo più con Flavia e con Stefano perché voi avete scelto soprattutto dal punto di vista grafico per i libri per ogni libro almeno per i libri a cui abbiamo lavorato insieme degli siti diversi dei modi tu Flavia questa volta hai affrontato è la prima volta che fai un libro totalmente a colori Stefano tu cambi sempre tecnica trovi sempre un adesso il contastorie l'hai fatto ad Acquarelli un po' come avevi lavorato con la terra del cielo e i corvi ma scegliendo una palette completamente diversa come si fa a trovare lo stile giusto per la storia che si sta per raccontare quanto pensiero dietro c'è quando avete per la prima volta a che fare con la storia avete già in mente un'idea di Massima e di che cosa vorreste usare oppure è una cosa che viene fuori un po' col tempo secondo me almeno una volta nella vita Stefano abbattuto i piedi dicendo una cosa del tipo pastelli 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 e finalmente Teresa ha detto ho un'idea e lui ha fatto pastelli secondo me qualche volta ti parte ho delle cose che sono te le devi levare sono ancora delle tipi di disegno che non hai affrontato io sono terrorizzato perché ho visto la gamma lui è come i primi dieci film di Ang Lee non ce ne sono due dello stesso genere dello stesso tipo alla fine ti restano solo incidere delle patate le xilografie le xilografie il sangue di piccione su pergamena di budello lasciamo stare questi piccioni per favore giusto in realtà allora di pensiero io ce n'è pochissimo nel senso che di solito quando ragioniamo una storia a parte per il porto per il porto orribito che invece gli è stato super ragionato mille prove eccetera eccetera ma tutti gli altri è venuta so come dire buona la prima cioè cominciamo a ragionare su una storia cominciamo a pensare ok la prima immagine che si forma è un'immagine ad acquarelli o a pastelli o a matite o qualche altra tecnica quindi di solito andiamo proprio così quello che mi sembra più adatto e in genere viene abbastanza naturale il porto no il porto è l'unico che ha avuto un sacco di tentativi diversi prima di arrivare alla matita ma quindi c'era anche una versione a colori del porto? sì a colori due versioni a colori tre aspetta una a colori tipo a inchiostrato a pennello e colorato in digitale un altro disegnato a matita forse colorato in digitale ma non ne sono sicuro però tipo con solo due colori e un altro ad acrilico una mezza pagina che a mezza pagina ha detto no acrilico no va bene tutto ma questo no adesso mi immagino che tu sali le scale piano piano e tua moglie dice deciso lo stile per la prossima storia amore è uscito a fresco tocca quello servono pareti grandi ci si sapevano metri quadri io vorrei avere una risposta più articolata ma visto che la mia stessa scrittrice ci mette troppo tempo la disegnatrice fa quel che viene no è veramente non sono io non dico sempre è un difetto però non ho molti stili molti modi di approcciare il disegno per me è una progressione a volte cambiano gli strumenti e quindi cambia anche il segno è cambiato tanto per me passare da lavorare in tradizionale o in digitale però beh non male resto quello adesso che sono almeno per il mio stile è arrivato a uno stile di disegno un po' troppo realistico per i miei gusti che so magari penso il prossimo vorrei fare una cosa un po' più semplificata tornare ai personaggi con le orecchie giganti un po' stondati se non riprovare un po' a usare i pennelli su carta però ecco al di là di quello sono molto io sono molto impulsiva va sempre un po' bene la prima sappi che la gente muore dalla voglia di un intero libro come le tue vignettine cibi che fai sui social sul serio noi sappiamo che lo compriamo per ragioni meramente commerciali avete un'altra cosa in comune tra l'altro che mi è venuta in mente sentendovi raccontare queste cose adesso che quando voi Teresa e Stefano passavate dalla notorietà a Disney al fare le vostre cose prima di tutto con Viola Giramondo e poi quando siete venuti da noi con Il Porto Proibito dicevate alle persone che vi chiedevano è il prossimo libro e voi dicevate però è per adulti e la gente capiva che era un porno e sapendo che venivano comunque da un background Disney credo che si domandassero che traumi hanno avuto lavorando per Disney se devono fare i porni invece allo stesso tempo adesso Flavia sta splendendo per il lavoro sulla Casa delle Magnoli che comunque è un libro che ha una grande delicatezza e ampie sfaccettature dei personaggi delle loro dinamiche e mi immagino la gente che va dal libraio e dice ah altro di questa autrice e gli indicano Simulacri della Bonelli dove non è tutta colpa tua ma si ingroppano ogni tre pagine e mi immagino il lettore sensibile e delicato che apre quello e dice non è la stessa cosa io ho fatto la versione horror dovevo decidere ogni volta come uccidere un personaggio in che modo e quanto sangue mettere tu capisci che Giulio Maccaione è uno dei tuoi complici nella serie di Simulacri è un uomo di un'eleganza incredibile di una delicatezza nel racconto favolosa e a lui invece sono toccate proprio le parti da cinema luci rosse io una volta ce ne aveva regalato un volume credo a una fiera è rimasto in ufficio per un po' ma a un certo punto volevo archiviarlo ho detto io sono al contrario a mettere a scaffale una cosa che non ho aperto e sfogliato non c'è nessuno attorno vero com'è questa doppia anima per te del fatto di aver lavorato anche su testi di altri ma a cose chiaramente come dicono i francesi lecteurs avverti per un pubblico maturo e informato e invece di solito cercare di fare delle cose che magari non sono adatte all'infanzia ma che essenzialmente non offendono non traumatizzano nessuna categoria umana per me è stato un po' divertente perché per chi mi segue da tanto sa che oltre che appunto disegnare storie lunghe ho disegnato storie brevi in autoproduzione il mio gruppo di autoproduzione si chiamava Manticora eravamo otto di partenza e poi siamo rimasti in quattro o cinque e ecco il mio problema con i miei colleghi che adoravo era che io ero l'unica che aveva il gusto per le storie slice of life di vita quotidiana se non proprio d'amore me lo direbbe Barbascura agli altri piacevano sempre o gli horror o le cose storiche e quindi mi sono mi ero già trovata molte volte a andare fuori dai miei gusti a esercitarmi in qualcosa che non non avrei mai affrontato su una trama più lunga e in realtà un po' di gusto ce l'ho per la storia un po' cupa ho dei limiti come disegnatrice nel senso che comunque io cioè disegno boni cioè nel senso disegno dei personaggi che stonano un po' cozzano un po' a volte con delle atmosfere particolarmente pesanti con Simulary andava bene perché comunque questo gruppo di giovini bellissimi che viene masciullato fondamentalmente quindi era tutto buttato su un body horror ma è stata anche una cosa che ho dovuto concordare un po' con Marco che scriveva la mia parte Marco Bucci perché comunque avevo dei limiti come disegnatrice e lui era abituato a lavorare con Camagni che ti disegna la qualsiasi e infatti mi è venuto un po' incontro con gli ambienti che sono quasi sempre spiaggia di notte che vuol dire linea bianca cielo nero grotta che vuol dire nero con righe di rocce che emergono cioè al massimo mi ha fatto l'interno di un carcere abbandonato che io ho risolto con nero con porta fatta con le sbarre e con il bianco ecco mi concentravo un po' sulla creare la suspense attraverso le espressioni i movimenti il corpo le ombre sul corpo e cercavo di scappare dagli sfondi scappando proprio comunque Flavia si sminuisce sempre e dice di non essere così portata per l'horror ma non è vero perché a Lucca mi ha disegnato un ministro San Giuliano nudo è vero te l'ho chiesto io è vero tagliato all'omberico ho fatto un mission più strano e perciò va bene ho chiesto solo disegni del ministro San Giuliano quest'anno a Lucca non ho avuto quello di Stefano peccato non ho avuto il piacere ti porterò il quaderno perché secondo me il tuo viene viene molto carino e voi non vi avete mai pensato di invece cimentarvi con una storia proprio solo per adulti non nel senso che ha dei riferimenti che coglie un popolo un gruppo di lettori adulti ma una storia diciamo adulta adulta non nel senso di pornografico ma nel senso tenete lontani i bambini da questa storia non è tra le non è nelle cose che sono nelle vostre corde ma perché in realtà noi di solito non pensiamo a chi poi andrà a leggere la storia proprio noi non pensiamo ma ci pensiamo questa storia ci ispira è quella che vorremmo leggere noi in qualche modo ci tiene compagnia nella testa da un po' sentiamo le voci eccetera per cui andiamo in quella direzione lì e di solito non cioè sono abbastanza universali cioè è vero che il porto proibito io lo concepisco magari per dei ragazzini un po' più grandi non certi bambini ma solo per un discorso proprio esperienziale cioè che il bambino non ha delle esperienze adatte a potersi interfacciare con quel tipo di cosa lì ma non perché ci sia poi in fondo niente prendo una deviazione non volevo prendere il controllo della conversazione ma c'è questo luogo comune che il fumetto dovrebbe essere per bambini noi ci scontriamo tantissimo ad editori con questa cosa per esempio in questi giorni stiamo parlando molto di uno dei libri più importanti nel senso morale dell'anno per noi che è Dax di Kate Beaton che parla essenzialmente di un ambiente di mascolinità tossica in una in un'azienda petrolifera nell'Alberta canadese e lo diciamo chiaramente che parla di questo e nei commenti sotto i post c'è per una bambina di nove anni può andare bene porca miseria vi siete dovuti misurare voi venendo dal background Disney con il no senti non ti sto dicendo che la mia storia traumatizzerà tuo figlio solo che non è per tuo figlio vi è successo di dover sempre disambiguare ci succede continuamente ma proprio con la gente con cui abbiamo che fare tutti i giorni cioè non so noi abbiamo due figli in età scolare ok sempre sempre perché quando esce che fai i fumetti già è una cosa strambissima che fai i fumetti fumetti cioè già capire che quando io cerco di spiegare poi due faccio due su due che fanno fumetti ah ma sì dove li vado a comprare macelleria notoriamente i fumetti cioè è difficile no? allora a volte lasci perdere perché c'è quando c'è la misura colma dici vabbè sì vabbè sorridi quando cerchi di far capire ti impunti non ti devi impuntare è difficile perché tu dici ok ma sono sono romanzi a fumetti cioè come dire e allora le mamme ti dicono ma quindi per lui per lei indicando il figlio piccoli no veramente sono per te cioè e quindi è difficilissimo lì si bloccano quando ci sono per te come per me l'unico è un fumetto ma non sono un esperto se sono per me allora sono porno cioè sostanzialmente perché se è un fumetto per adulti allora è così cioè è così e tu a quello che ti dice così devi dire mi devi dire qualcosa per cui alla fine ho capito che l'unico modo è che ci incappino e che li leggano per puro caso e allora forse dopo capire ma spiegare è impossibile tra l'altro per esempio vai no no era molto interessante quello che stavi dicendo perché se quando qualcuno che non ha mai letto fumetti mi chiede qualcosa per iniziare effettivamente i vostri sono tra i primi che mi vengono in mente ma non solo perché tipo in non stancarti di andare ci sono anche delle pagine effettivamente scritte dentro e che quindi possono rendere più facile a un lettore che magari non ha mai letto fumetto avvicinarsi al nostro mondo secondo voi qual è la cosa che qual è la paura che hanno le persone quando vedono un fumetto e poi dicono non sono un esperto non non so non so come approcciarmi cos'è che li spaventa? ma secondo me sono due cose uno che hanno proprio paura di non essere capaci cioè di non avere la piantina e non sapere ci vuole il google map per leggere il fumetto cioè non so dove devo guardare è una cosa così cioè cosa faccio? leggo prima questo guardo la figura non sono non sono capaci questo però per chi non ne ha mai letto sì e l'altra è invece che insomma io leggo libri veri e quindi questa cosa qua farmi vedere guarda secondo me in questa nazione mediamente è scusi ma io non leggo libri veri cioè comunque quelli che le trovo io che ho trovato a trovare io che ti dicono io leggo sì sono un gran lettore però se gli proponi questa cosa pur spiegando che comunque sono molto magari vicino al romanzo tradizionale perché ok ci sono le immagini però il tipo di storia e c'è tanto questo poi per quello dico che uno ci deve incappare sono d'accordo con te perché tutto quello che state dicendo mi fa pensare che guardando il reciproco si crea un problema opposto per esempio Caterina ha detto che non stancarti di andare che per tematiche è uno dei libri che più ha suscitato le lodi del pubblico veramente adulto e consapevole e che si sente anche investito in una responsabilità sociale cioè che non è solo spettatore dei fatti della vita ma deve anche prendere una posizione ricordiamoci che l'abbiamo presentato alla sede di Emergency insomma è un libro importante però invece per il lettore di fumetti quelle pagine di testo a scorrere sono vabbè se volevo un libro vero compravo un libro vero dai li so leggere ma non è quello che volevo fare stasera invece il lettore letterario dice ecco come diceva giustamente lei dei riferimenti che io comprendo poi c'è anche il fatto invece per esempio i libri di Flavia fanno meno questo effetto perché i protagonisti hanno un'età per cui tu dici è chiaro che un tredicenne non empatizzerà con quattro trentenni e la loro struggle per affermarsi nella vita per esempio però ne abbiamo un altro problema quando facciamo la comunicazione social se diciamo romanzo grafico il primo commento è fumetto non andava bene per voi quindi devi usare fumetto per non triggerare quelli che vogliono che sia basso e popolare e non cercare di elevarlo con dei termini artefatti ma allo stesso tempo quando il lettore letterario di cui sopra legge fumetto pensa a una cosa banale terra terra e dove le immagini semplificano la comprensione del testo quindi è una bella lotta c'è sempre qualcuno che rimane scontento sì però ha ragione Teresa sul fatto che invece quelli che sono arrivati a un vostro libro beh guarda che il primo libro che abbiamo fatto con Flavia era La Generazione che ha molto l'affetto dell'autrice nonostante sia una di quelle persone che dopo un po' non amano più come prima la cosa che è abbastanza normale lasciare andare i figli a un certo punto però era un libro molto meno ambizioso di quelli che hai fatto dopo ma aveva un nucleo così caldo così giusto che è tuttora è il più tradotto dei tuoi libri è ancora molto amato da tutti i lettori il mio tuo personaggio preferito è Zia B quella esiste ne ero certo lo sapevo e quindi è più facile in qualche modo togliere questa stigma di questa storia e la banalizzazione di una storia che poteva essere differente però è durissima affermare il fumetto da fuori cioè non è neanche regalando il primo come gli spacciatori la prima dose è gratis è difficile che la gente dica wow allora ne voglio ancora e voi siete tra gli autori che per noi sono portali verso l'abitudine di infondere in parte delle letture dell'anno delle persone il fumetto io vi sono molto grato per questa cosa perché io sempre io muoio dalla voglia di andare in pensione c'è qualcuno in questa sala che non è d'accordo su questa cosa poi dovrò rispondere di questa frase ma però io ho detto in pubblico che vado in pensione il giorno che un tassista mi chiederà che mestiere faccio io risponderò il mestiere che faccio e mi commenterà a tono e non mi dirà cose del tipo invece per vivere perché tutto quello che facciamo noi è considerato appunto voi siete strani perché penseranno che siete mantenuti da un lobby perché avete dei parenti molto ricchi perché facendo entrambi i fumetti c'è un nostro amico che fa un lavoro simile lavora in teatro fa spettacoli per bambini con le bolle di sapone quindi siamo lì e lui quando tipo va a prendere i figli a scuola al pomeriggio perché un papà va al pomeriggio a prendere non è il lavoro e gli anziani gli chiedono ma che qualche lavoro fa fa il panettiere lei lo spiegava non funzionava adesso dice sono ricco di famiglia e quindi questa è una cosa accettata da tutti sono ricco di famiglia ah ok allora va bene io ne ho una prima di farvi fare qualche domanda se volete ho guardato furtivamente l'orologio è vero che il tempo vola quando ti diverti sul serio perché l'abbiamo quasi finito siamo in un momento non solo storico proprio un momento lichet nunc lo zeitgeist delle cose in cui nessuno si può permettere nessuno che ha una voce che si può udire in pubblico si può permettere di dire io sono per il disimpegno a me non interessa niente io racconto le storie io sono solo l'escapismo e tra l'altro voi non siete autori di questo tipo quanto è importante partendo dalla premessa assodata che chi racconta una storia deve avere una pulsione a raccontarla per sé perché altrimenti se non la ami se non la vuoi se non ci litighi se non ci soffri se non ci sanguini un po' se non ci fai pace Flavia l'ultima ci ha messo cinque anni a farla ne aveva avuto di crisi con questa storia a un certo punto anche se non è per la storia che ci hai messo cinque anni quanto è importante per le persone che poi inciamperanno in quella storia che voi ci lasciate dentro dei messaggi non per forza buonisti non per forza sempre positivi quindi non è una questione di dare la sensazione del feel good al lettore ma quanto è importante dare la sensazione che un cambiamento un miglioramento è possibile e che non è vero che sempre per forza tutto andrà deperendo l'entropia vincerà l'indifferenza perché i vostri personaggi non sono mai indifferenti mai a volte sono cattivi però quelli hanno un'intenzione hanno una passione bruciante criminale però ce l'hanno quanto è importante lasciare qualcosa agli sconosciuti che potrebbero leggervi che gli dica non andrà tutto bene ma c'è la possibilità che non tutto finisca veramente male ma io questa roba qua la sento tanto è un po' difficile rispondere a questa domanda cioè nel senso io sento tanto il bisogno di narrazioni alternative rispetto all'accendere io non noi non guardiamo la televisione però tipo leggi il giornale è uguale cioè nel senso immagino che la televisione sia peggio però il giornale non è proprio rincuorante no? quelle le notizie e lo sento tanto il bisogno ma ce lo vorrei anch'io una narrazione alternativa che ci racconta l'altra parte di quello che non vediamo la classica storia è come il non stancarti di andare di quelli che vanno avanti nonostante dell'albero della foresta che cresce questa cosa qua però quando racconto le storie cioè almeno noi non pensiamo mai di dover cioè non è il primo fine come dire dover lasciare un messaggio ma racconti quello in cui credi per cui come dire passa un po' da solo tra le righe quello in cui credi quello che pensi e quindi quello in cui speri cioè e quindi sì per me c'è tantissimo in tutte le mie storie lo ritrovo sempre questa cosa il fatto di ricevere delle cose bellissime da quelle che secondo la società sono persone sbagliate cioè in tutte le nostre storie c'è questa cosa qua sempre è una fissa mia è una fissa che ho per tante ragioni nelle mie vite precedenti interiorizzate i bugiardi delle tue storie lasciano doni inaspettati sì e infatti l'ultima dedica è proprio questa i cattivi maestri che lasciano cose buone io ho avuto una vita piena di cattivi maestri che mi hanno lasciato delle cose meravigliose mi sento come dire in debito e ogni volta che riesco a raccontare di un personaggio che non è perfetto nel senso di regolare come lo vorrebbe il mondo ma lascia qualcosa e gli altri si innamorano di quello per me è una bella cosa che mi porto dentro per cui magari ci sono dei messaggi come dire di seconde possibilità di così cielo sereno dietro le nuvole così che passano anche se uno magari non sta cercando di parlare del messaggio ma per cui secondo me è importante la narrazione alternativa diciamo a quella che ci troviamo attorno sì concordo al cento per cento io neanch'io parto dall'idea di un messaggio ponderato quando scrivo però mi viene chiesto a volte se mi viene chiesto spesso se c'è ci sono cose autobiografiche nelle mie storie o se ho mai pensato di scrivere di me come personaggio ecco è una cosa che non farei perché cioè nel senso io sono una pessimista sono una persona molto chiusa molto implacabile con me stessa e mi stanca al vostro mi stanco da sola sostanzialmente quindi mi piace scrivere di personaggi che invece riesco a a pensare come più positivi di me anche partendo dai loro errori dal non essere perfetti e mi piace spesso se posso sembra una frase fatta raccontare la bellezza delle cose piccole ma anche degli aneddoti io rimango affascinata da cose piccolissime che magari scompaiono in mezzo al rumore del mondo però io ho una panaglia sotto casa chiaccherona si chiama Mirella in suo nome ho battezzato la mia caldaia panettiera scusate toscana lei mi parla diritto so cosa ho studiato che nel tempo libero allena tre squadre di pallavolo quando hanno vinto quando si è sposato la sua figlia che Meteo ha fatto quel mercoledì glielo controllavo io su google ho visto le foto del matrimonio a me emoziona un sacco quando Mirella mi parla perché tutti i suoi aneddoti la rendono estremamente vera io torno a casa e ho voglia di scrivere ho voglia di scrivere di Mirella è una roba stramba e quindi quando racconto le storie a me in qualche modo mi piace raccontare le cose che mi hanno fatto felice e nel mio caso sono sceme spesso sono gli anziani che chiacchierano però non ce la faccio come scrittrice a lasciare un lettore a mani vuote mi piacerebbe sempre che alla fine delle storie al di là che gli sia piaciuta o meno si sia sentito in compagnia ecco voi fate dei costrutti veramente molto articolati di relazioni umane nelle vostre storie per questo i vostri personaggi sono così ci sono autori che fanno libri bellissimi con personaggi non trascurabili anche antipatici seriamente funziona cioè ha senso io non mi innamoro dei personaggi di Jacopo Starace mi innamoro dei suoi mondi però non ho bisogno di innamorarmi dei personaggi per esempio con voi ci capita inevitabilmente di innamoraremi di innamoraremi di innamoraremi di innamoraremi di innamoraremi